Siamo fuori lo stadio San Paolo, come vedete, e incontriamo Santa Croce, anche lui a dare una mano per il progetto Napolino. Sì, sai, ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione, perché è importante, soprattutto una persona di colore come te, sa quanto è importante il progetto a Castelvoltù. È un ottimo progetto, quindi ragazzi, compratela!